Ciao bimbi, sono la maestra Cecilia, la vostra maestra di musica. Ciao, come sta andando in questo periodo un po' particolare? Cerchiamo in qualche modo di ripassare un po' le cose che abbiamo fatto e poi anche magari di andare avanti. Vediamo un po'. Allora, bimbi di tre anni, abbiamo fatto la canzone del pulcino che ci è piaciuto un sacco. Abbiamo cominciato a farla con gli strumenti, visto che forse a casa gli strumenti non li avete, però se li avete, usateli, le maracas. Io ce l'ho! Tu ce l'hai? Molto bene. Il violino! Il violino, ma noi usavamo le maracas, usavamo i legnetti, usavamo i tamburellini, qua non ce ne abbiamo. Allora ci sono però degli strumenti che possiamo usare anche a casa. Per esempio, due pennarelli con cui fare i legnetti, oppure anche, non lo so, due cucchiai di legno dalla cucina di mamma, oppure le maracas si possono fare, per esempio, con le confezioni delle sorprese degli ovetti kinder, se li riempite di riso, loro fanno le maracas. Magari qualche strumento ce l'avete, ci inventiamo qualcosa. Allora, la canzone del pulcino, chissà se ve la ricordate. Ci mettiamo così? Vieni, è lì. Qua? Ok. Mettiamo gli strumentini a terra, che li prendiamo quando inizia la canzone. Sei pronta? Andiamo con la canzone? Prendi il ciuccio però. Ottimo. Pronti via. Prendiamo gli strumenti! Pronti via! Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, due, tre, quattro, due. Adesso ne metto giù. Facciamo l'ovento con le mani. Qui. Ecco. Lunedì, chiudin, chiudino, martedì, buco, lopino. Scuscio fuori di mercoledì, pio, 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 fece giovedì. Scuscio fuori di mercoledì, pio, 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 fece giovedì. Benedì, fece un saltino, becco sabato un granino. La domenica mattina avverrà già la sua crescina. La domenica mattina avverrà già la sua crescina. Prendiamo gli strumenti! Pronti via! Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, uno, due, lo metto giù. Scuscio fuori di mercoledì, pio, pio, fece giovedì. Scuscio fuori di mercoledì, pio, 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 fece giovedì. Benedì, fece un saltino, becco sabato un granino. La domenica mattina avverrà già la sua crescina. La domenica mattina avverrà già la sua crescina. Prendiamo gli strumenti! Pronti via! Uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, attenzione che c'è il finale. Pronti? Vado su! Bravissimi! Ciao, bimbi, alla prossima canzone! Ciao, ciao, ciao! Ciao!